Benvenuti diciamo nell'episodio numero 5 della serie Neandertal, lo trovi proprio nella playlist specifica con il nome Neandertal appunto sul mio canale. In questo video parleremo delle caratteristiche del cranio di un Neandertal. Il cranio di un Neandertal ha delle caratteristiche anatomiche chiare. Un antropologo saprebbe subito riconoscerlo perché l'ossocipitale è piatto nella parte più bassa ma poi verso il centro ha una sporgenza cioè nella sua parte più centrale l'ossocipitale che praticamente quest'osso che vi vado appunto a indicare qui con la freccia ha una sporgenza quindi una protuberanza. Poi diciamo abbiamo anche le arcate sovraorbitarie importanti. I Neandertal avevano anche un naso ampio e il canale della mandibola era anche un canale mandibolare grande per un circo lematico fornito di ponte osseo. Tutta quella che è la capacità cranica dei Neandertal era diciamo all'incirca tra i 1200 e i 1750 centimetri cubi che chiaramente sono tanti e per quanto riguarda il loro teschio come potete vedere è un teschio basso e piatto condizione che fa sotto il nome di platicefalia. I mascellari come potete vedere sono molto prominenti in avanti cioè il cosiddetto prognatismo dei mascellari dove appunto il margine del primo molare risulta essere diciamo più avanzato rispetto allo zicomo che invece si trova in questa posizione e poi diciamo che il cranio è allungato in senso anteroposteriore in questo senso vedete che è un cranio molto lungo se vogliamo e la cresta del processo mastoideo si trova dietro diciamo l'apertura auricolare. Il mento osseo è poco prominente come potete vedere mentre noi sapiens il mento ovviamente è molto più marcato ed è questa poi una caratteristica diagnostica proprio del sapiens e l'orecchio interno a livello del labirinto nei neandertal a una forma specifica. Nell'episodio numero 6 che sarà il prossimo di questa serie neandertal appunto andremo a vedere invece quali sono le caratteristiche del post cranio di un neandertal cioè le caratteristiche generali del suo scheletro. Iscriviti al canale e lascia un mi piace e condividi il video con altri utenti per diffonderlo sempre di più e avvicinare sempre più curiosi a questa community attiva anche la campanella delle notifiche così ogni volta che pubblico un nuovo video resti sempre aggiornato o aggiornata